lo so non ho fatto il video dove dico grazie di mille iscritti eccetera eccetera semplicemente perché non vi ringrazio anche perché la bravura è tutta la mia e la bellezza ne parla chiaro proprio poco fa stavo su instagram e scorrendo i vari video tra questo video e questo video qua quanti generi esistono? multiplex mi è capitato il video del buon walone e arcadia caffè dove proprio walone cercava di spiegare i vari motivi del perché è passato completamente al mercato digitale dove secondo lui è la soluzione migliore per quanto riguarda i suoi gusti se walone stai guardando questo video ciao ti voglio bene rispetto il tuo lavoro se nel caso stai guardando questo video vuoi commentare scrivi gialluca imbecille e siamo a posto così non mi denunci per aver messo la tua immagine nel video mentre stavo montando il video mi sono accorto che anche tu ti chiami gialluca quindi non è che volevo dire imbecille a te anch'io mi chiamo gialluca quindi capito no non mi denunciare per favore quello che vi voglio dire oggi volevo fare un video dato che abbiamo superato i mille facciamo un video dove mettiamo d'accordo tutti no quindi perché non parliamo della disparità la differenza che c'è tra il fisico e il digitale cos'è meglio secondo me tra il fisico e il digitale il digitale cazzo non sarà mai il fisico o meglio per tanto tempo il fisico è stato una parte di me ero uno proprio di quelli che collezionava giochi li metteva in fila uno per uno di tutti i giochi che comprava e ad un certo punto si è reso conto che aveva più giochi che calzini quindi cosa dovevo fare dovevo continuare a comprare scatole per contenere i giochi oppure era forse meglio che cominciavo a comprare dei calzini non bucati quindi cosa ho cominciato a fare ho cominciato a guardare il mondo del digitale e volete sapere una cosa mi sto trovando e mi sono trovato da dio da ormai parecchi anni proprio perché continuando a guardare il mondo del fisico stare dietro al day one specialmente a volte per me era una gran inculata siccome già so cosa state per scrivere fermatevi fatemi parlare la grande differenza per me tra il digitale il fisico sta proprio nel day one nel saper scegliere cosa acquistare e dove acquistare vi faccio un esempio possedete una console microsoft non ci sono problemi invece di andare nel negozio media ordoni euro quello che volete o è andare la e comprare il supporto fisico pagandolo 70 80 euro al day one sapete che potete comprare i videogiochi con le chiavi d'accesso e pagarli un cinquantello e sono legali quelle chiavi e non andate contro al al contratto con microsoft non andate contro a nessuno è tutto legale solo che però ovviamente se non possedete il prodotto di plastica in mano sentirete dentro di voi una mancanza proprio come quando vi fate una sega e all'improvviso vi fermate a metà questa sensazione io non la provo sapete perché perché dal momento che io acquisto un prodotto che esso sia digitale o fisico alla fine io sto acquistando il software e quel software sarà legato al mio account fino a che rimane attivo e ovviamente fino a che il gioco rimarrà negli store dal momento che quel gioco verrà tolto dagli store cosa succede il gioco non sarà più accessibile attenzione però quali giochi vogliamo veramente possedere una copia di concord su via vogliamo possedere qualche gioco che ci interessa sì l'idea non è male e lo faccio anch'io e riflesso non faceva vedere semplicemente perché acquisto fisico ancora semplicemente perché se vado a vedere le chiavi d'accesso oppure gli sconti che ci sono tra microsoft e playstation non trovo la stessa cosa nel mercato dell'usato proprio acquistato questo gioco semplicemente perché da un tizio francese con il mocciolo al naso l'ho comprato a trendello ma proprio quel trentello mi ha fatto acquistare quel gioco se io avessi trovato il gioco a 30 euro digitale non mi sarei fatto problemi e volete sapere una cosa probabilmente lo avrei goduto di più perché io alla mia veneranda età mi sono rotto i coglioni ogni volta di inserire il disco nella console e ricordarmi soprattutto di toglierlo perché sei un vecchio del cazzo sì sono un vecchio del cazzo ma non c'ho più voglia di ricordarmi queste cose di lasciare il disco dentro perché altrimenti si può rovinare il carrello eccetera eccetera non me ne frega niente quello che voglio dire perché c'è tutto questo astio verso il mondo digitale un po l'ho cominciato un po a sondare anche perché tempo fa con luca feci un video dove chiacchieravamo oltre cosa sceglievamo tra il fisico e il digitale era una chiacchierata molto tranquilla e come tale l'ho sempre apprezzata adesso però siccome mi piace fare incazzare tutta quell'utenza che sotto i commenti scrive non capisci un cazzo e che va bene bene me ne frega un cazzo aveva bene io mi diverto lo stesso sotto nei commenti specialmente di quel grandissimo social che io amo chiamato facebook vedo sempre più persone che dicono a me non toglierai mai la voglia di acquistare il disco bene ragazzi ho fatto l'esempio con like a dragon volete sapere una cosa nella versione fisica c'è un adesivo del cazzo e c'è un disco non c'è un cazzo quindi dal momento che voi acquistate il gioco fisico cosa cazzo avete di così valorizzante tra le mani ve lo dico io un pezzo di plastica questo gioco rimarrà negli store e ci rimarrà per almeno 10 12 anni dalla data d'uscita almeno detto ovviamente se qualcuno vorrà recuperarlo mettiamo caso che lo toglieranno dagli store arriva questo tizio no e dice ma io voglio possedere i giochi perché metti che fra vent'anni vorrò giocarci allora se tu hai adesso vent'anni e quando ne avrai 40 vorrei giocare a un gioco simile da 80 ore significa che o non c'è un cazzo da fare nella vita oppure hai tanto tanto tempo libero che devi colmare ma vuoi colmarlo con un gioco di vent'anni fa libero di farlo esiste per questo il mercato dell'usato puoi continuare a farlo io siccome la ragiono in maniera diversa mi son detto che cazzo ci faccio infatti una volta finito sto gioco vola su vinted semplicemente perché a me possedere il gioco non fregherà nulla e quando lo troverò digitale in fortissimo sconto a 5 euro lo ricomprerò avete sentito l'avete sentito no l'eco delle persone che dicono sì sapete perché perché non me ne frega un cazzo probabilmente potrò permettermelo no quindi non fatemi conti in tasca e io non li faccio a voi se voi volete acquistare fisico fatelo però non vi lamentate che poi giochi dopo costano 80 euro e semplicemente non vi lamentate che prima i giochi vi davano il libretto di istruzioni adesso invece vi danno l'adesivo ragazzi funziona così se comprate il fisico voi state acquistando semplicemente un supporto di plastica per i vostri dischetti che con il tempo quei dischetti come dite voi rimarranno nel tempo volete sapere una cosa facciamo l'esempio proprio più sciocco del mondo sapete quanto che collezioni di cd musicali o io pari ai 200 cd volete sapere una cosa le ho dovuto gettare quasi la metà sapete perché perché si sono smagnetizzati iepi voi che vi incazzate tanto no voglio possedere voglio sentire l'oggetto tra le mani perché non fate questa cosa anche per i film lo so che qualcuno c'è che compra ancora i blu ray lo so ma perché non lo fate perché non lo fate per la musica no la musica è un'altra storia è un'altra storia quindi vogliamo dire che gruppi così oppure i beatles oppure le zeppelin non contano un cazzo conta più like a dragon no no sono entrambi uguali e come tali vanno rispettati no va rispettato il lavoro qualcuno più qualcuno meno perché dubito che qualcuno ha voglia di fare il figo e dire io possiedo determinate copie fisiche del gioco anche perché lo so bene che molti collezionisti comprano in fisico quando in fortissimo sconto ma quando compri in sconto in che modo stai aiutando quella software house o quell'azienda a continuare a produrre oggetti fisici se tu acquisti in digitali i soldi vanno direttamente a loro se tu acquisti da peppiniello o carruzziere e cico e compri il disco non stai dando i soldi a sony o microsoft o quello che è li stai dando a peppiniello che a sua volta lo acquisto che poi può essere che lo acquisto ad un altro che al mercato mia madre comprò ragazzi è tutto un giro che poi alla fine significa che c'è stato un solo pirla che l'ha acquistato digitale non è così ci sta anche il fatto che uno dice io non conosco il gioco quindi aspetto che sia in sconto e me lo acquisterò un po più tardi va bene però acquistalo nuovo perché se stai sempre a puntare al mercato dell'usato alla fine le idee smettono di esistere e come tali dopo non potete pensare che tante software house importanti rimangano forti sul mercato questi video sono sempre realizzati a braccio e si vede perché probabilmente sbaglio le forme le sicali le parole eccetera eccetera quindi a volte non seguo nemmeno il filo logico quindi ve lo dico adoro questo genere di video e continuerò a farli però vi dico una cosa voi che siete tanto amanti del supporto fisico e non vi sto assolutamente giudicando come degli stupidi perché ognuno è libero di fare il cazzo che vuole vi dico una cosa anch'io volevo acquistare volevo recuperare scusate volevo recuperare un gioco che ai tempi non giocai di cui se luca sta guardando il video ciao luca ricordati che ti penso sempre quando penso questo titolo anch'io acquistato sta roba ma l'ho acquistata da vinte tutto rotto in che modo aiutato microsoft in nessun modo e voi direte allora perché l'hai acquistato perché questo non c'è più sugli store l'hanno tolto probabilmente sono scadute le licenze non lo so quello che volete sto gioco ve lo dico pure è del 2013 quindi dopo 11 anni non si trova più sugli store digitali lo volevo recuperare assolutamente sì era un gioco del cazzo e ci aveva ragione luca smettiamola di fare sta guerra digitale fisico comprate secondo la mia logica i giochi dagli store perché l'unico modo in cui potete aiutare questa industria se poi dopo vedete che società come ubisoft crollano e non si sa se poi verranno acquistati dai cinesi oppure se altri titoli diventano come piace a voi riempirvi la bocca con questo termine del cazzo walk cioè non rompete i coglioni perché alla fine queste società si adeguano alle mode del momento e non continueranno mai a fare quello che facevano una volta che voi amate tanto chiudo il video dice chiudendo con questa perla tra i commenti di uno shorts che ho pubblicato mi sembra riguardante ubisoft che ha problemi eccetera eccetera salta fuori il menestrello con questa frase poi mi chiedete perché io continui ad odiare la pirateria e continui ad odiare il formato fisico se non esistesse il digital download illegale questi soggetti non esisterebbero ci avete ragione lo so non ho fatto il video per ringraziarvi dei mille iscritti però qua non siamo mal gioglio quindi non stiamo qua a ciao 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 ciao